Matteo dove andiamo adesso? Andiamo a consegnare il trofeo al sindaco. E' stata un'esperienza straordinaria, mi penserebbe venire a un bianco anche con voi della squadra, Matteo, poi c'è Daria, Maria Dia. I nostri compagni ci sono stati in questi tre giorni di sport, di solidarietà e di amicizie. Abbiamo costruito anche una bella amicizia e della squadra straordinaria. Ci siamo incontri perché tutti ci sono stati da fare per portare a casa questa pompa da Matteo. Questa è un'iniziativa che è nata nell'ambito del gemellaggio tra Bavia e Besançon. Il sindaco di Besançon ha proposto e ha invitato la città di Bavia a partecipare a questa manifestazione. Una manifestazione che al nome, come potete vedere, di re di grande forza. I forze sono dei forti attorno a Besançon. E' una manifestazione che si poneva, una manifestazione sportiva, che si poneva all'obiettivo di far partecipare a dei giochi sportivi, anche di un certo tipo, sono arrivati con la lingua fuori veramente, squadre composte da persone disabili e da persone non dotate. E' stata un'esperienza molto molto bella. che abbiamo voluto partecipare, perché è stato significativo nel cinquantesimo anno del gemellaggio, partecipare. E secondo perché questo è stato un piccolo esperimento di come persone disabili e persone non dotate si possono integrare anche un'esperienza poco nelle esperienze anche di far partecipare. Guardate, io ho portato e abbiamo portato sei persone che si conoscevano poco, e forse non si conoscevano in alcuni casi, e ho ritornato, ho ritornato indietro sei fratelli. Nel senso che è stata proprio un'esperienza anche di far partecipare. Questo dimostra che l'integrazione tra le persone è il modo migliore per recuperare le barriere. sono contento che ho fatto delle mie cose belle per questa esperienza di persone. E' stata per me uno sport che vinto con voi, e vorrei partecipare a voi, affrontare i miei barriere e affrontare tutto il resto. ... Grazie a tutti. Una squadra che mi ha invitato in alto e di condividere le esperienze che non mi savo di ridere ancora e ringrazio tutti. Grazie a tutti.